Ciao a tutti ragazzi sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft in Webcam Oggi giocheremo alle Bedwars in Webcam e non faccio un video del genere da un bel po' di tempo Nel mio secondo canale sto portando tantissimi video con la webcam e vi piace molto la qualità E quindi ho pensato, perché no, portiamolo anche nel primo canale Sto ovviamente utilizzando il merchandise ufficiale di Kendal Link in descrizione se lo volete comprare Adesso, non gioco una Bedwars da un bel po' di tempo Quindi, potrei giocare una partita da solo Mi raccomando, lascia un bel mi piace a questo video se non lo hai ancora fatto E vediamo di superare... L'ultimo video in Webcam che ho fatto nelle Bedwars ha superato i 60.000 mi piace Quindi secondo me questo può superare tranquillamente i 5.000 mi piace Forza, forza, sono pronto, sono pronto a dimostrare a tutti quanti che io sono ancora l'imperatore Eccoci qua, siamo finalmente in partita Così potete vedere la mia prospettiva Ecco, quindi come gioco io mi potete vedere in faccia nel frattempo E fatemi sapere se vorreste vedere degli altri video delle Bedwars in Webcam Perché adesso mi è più comodo, ho migliorato decisamente di gran lunga il setup Quindi c'ho una videocamera migliore, c'ho delle luci migliori E non ci metto più una vita a fare i video in Webcam Quindi in questo modo è più comodo Allora, adesso concentriamoci nella partita ragazzi Perché altrimenti ci rompo nel letto in meno di un nanosecondo Ci prendiamo subito tutti i diamanti Ho detto tutti i diamanti Ecco, ce li prendiamo tutti e due, perfetto Oh, ma lui è un fan, mi sa Non è detto che è un fan, però è italiano Su questo ne sono sicuro Non penso abbia già della TNT, un piccone e robe varie Quindi se faccio una minima protezione così dovrebbe bastare avanzare Ok, l'ho buttato giù No, è ancora vivo Dai, vieni, su, combatti Voglio prendere degli altri blocchi Ma allo stesso tempo ragazzi non mi conviene al momento Se prendo degli altri blocchi rischio che lui poi si butta e mi rompe tutto Dai, su, non perdiamo tempo Vieni, combatti Uno contro uno, vediamo chi avrà la meglio Io Addio Addio, perfetto Lui tra l'altro furbo ha fatto la protezione in legno Quindi io per romperglielo adesso mi devo fare l'accetta E adesso io combatterò con meno cuori Perché come vedete mi ha tolto la vita prima E c'è anche la spada in ferro Ma come ha fatto a farsi la spada in ferro così in fretta? Vabbè, comunque io c'ho i diamanti Adesso quindi sapete che faccio? Ci prendiamo hill pool Dopodiché Una bella corazza in ferro Adesso sono equipaggiato molto bene Ora, lui cercherà di andare di nuovo nel suo ponte, giusto? Ho sceso giù, dov'è? È qua Ma cosa pensi di fare, scusami? Comunque non penso sia un fan Perché non ha scritto niente in chat Quindi io lo tratto come un player normale Sì, sì, sì Mentre ci sono, sapete che mi prendo? Una bella bomba esplosiva E ti fai un bel viaggetto Ancora vivo, eh? Guarda che posso salire anch'io, eh? Cosa credi? Muori Ok, l'ho ucciso Perfetto Adesso approfittiamone per andare qua A prenderci gli altri diamanti Che lui sta ignorando completamente Cioè lui pur di uccidermi a tutti i costi, ragazzi Ha completamente ignorato Tutti i vari loot E tutti i tesori della mappa Ma vabbè Come vuoi Come vuoi Non de morde, ragazzi Mi vuole uccidere proprio a tutti i costi Basta Dai, mi lasci stare Dammi una tregua Oh cavolo, ora mi butta giù Oh, l'ho ucciso Ottimo Ok Questa è la mia chance, ragazzi Questa è la mia chance Dobbiamo iniziare ad avanzare verso casa sua Tra l'altro Gli hanno rotto qua Il ponte Sembra essere una guerra tra me e lui adesso Cioè non stiamo più giocando alle Bedwars Stiamo giocando io contro una persona Ok Adesso vado a casa tua Mi dispiace Rischio il tutto per tutto E provo a romperti il letto Ecco cosa succede A cercare di uccidere l'imperatore Ora ti aspetto 3, 2, 1 E combattiamo Ora anche se mi uccidi Non mi importa Perché tanto comunque Hai perso il letto E sei stato eliminato Adesso è molto positivo Il fatto che non ho più un vicino di casa Quindi nessuno mi può dare più fastidio Anche se qua si è creato un parco giochi Come vedete Sono dei ponti veramente assurdi E sono anche equipaggiato piuttosto bene 22 di oro Eh allora mi prendo Questo, 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 questo Ottimo Sapete cosa? Mi prendo anche dei blocchi per proteggere il mio letto meglio Sì ecco Lo sto facendo Lo sto facendo Sì lo so Lo so Tutti nei commenti mi direte Ma Kendall come il vero imperatore Non protegge mai il suo letto Ecco non voglio rischiare di perdere Lo so che il vero imperatore Non protegge mai il suo letto Ogni tanto si può fare un'eccezione Tanto le regole le invento io Poi non dovete mai E poi mai contraddirmi Capito? Sto scherzando ovviamente Sto scherzando Perché poi c'è la gente che mi dice Ma come te la tiri tantissimo Non sei forte Sei scarsissimo Sì ok Va bene Billy va bene Non sono andato neanche una volta al centro io tra l'altro Cioè quindi non ho Non ho gli smeraldi Non ho l'armatura in diamante Non ho la spada in diamante Non ho niente Vorrà dire che me li procurerò adesso Allora in vita ci sono io e il giallo E gli altri sembrerebbe che non abbiano il letto No no tutti hanno il letto tranne il verde Quindi io devo trovare il verde E devo ucciderlo Verde 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 Dei miei stivali Dove sei? Fatti vedere Ma è quella la casa del grigio? No qual è la casa del bianco? La casa del grigio qual è? Ah è quella E' andato a casa sua quindi Ah ok Che dite ci proviamo ragazzi? Lo so probabilmente sto facendo un errore adesso Perché Lui è a casa sua Mi potrebbe buttare giù da un momento all'altro E in realtà questo è l'unico modo che ha per battermi Al momento Buttarmi giù E infatti ci riuscirà Guardate adesso mi butta giù Sono sicuro ecco Che ho detto? L'ho detto? L'ho detto Non mi sono portato una mela d'oro Però dovrei riuscire ad avere il controllo totale del centro Quindi mi posso prendere tranquillamente Tutti gli smeraldi qua Così mi faccio una bella spada in diamante Ho anche un'armatura in diamante Comunque ci accontentiamo Non è che devo essere per forza la spada Un'armatura è buona abbastanza Eh il verde è stato fortunato ragazzi Perché mi ha buttato giù Sapevo che non sarebbe riuscito a uccidermi E l'unico modo che aveva per fermarmi Era quello di buttarmi giù Purtroppo è stato sveglio abbastanza Eh va bene Non ti preoccupare caro grigio Tanto prima o poi dovremo combattere di nuovo Sì 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 E dovrei avere anche altri due diamanti Sì ottimo Quindi penso di riuscire a prendermi protection 3 Non lo so non mi ricordo No protection 3 costa 8 diamanti L'armatura in diamante però sì Sono rimasto io il grigio e il blu Sembra una barzelletta Adesso soltanto ho bisogno di prendere altri due diamanti Per farmi il protection 3 Dopodiché non sarò immortale però quasi Ok allora ci prendiamo subito protection 3 Ottimo Eh il resto vabbè dai lo mettiamo qua dentro Perché tutti nei commenti poi se no mi dite Non andare a uccidere la gente con 150.000 di ferro Lo so avete ragione Però io in realtà quando faccio le spedizioni Metto in conto di non morire mai Quindi il grigio sta a casa sua ancora Non si è mosso neanche una volta Io potrei approfittarne per prendermi tutti gli smeraldi E farmi anche la spara in diamante Che non è indispensabile Però è sempre un plus Penso che il blu stia cercando di venire da me adesso Tra non molto me lo trovo a casa Ne sono sicuro Quindi io mi prendo una trappola Perché mi potrebbe servire E una bella spada in diamante Poi questa qua la mettiamo qua dentro Sta venendo qualcuno da me? No Voglio uccidere il grigio Perché mi sembra quello piuttosto tra i due Mi sembra quello un pochettino più forte Quindi mi berrò la pozione di invisibilità Per andare a casa del grigio Sperando che il blu non vada a casa mia In realtà potrebbe farlo Potrebbe farlo e come? Soprattutto spero che il grigio non abbia una trappola In casa Perché se ha messo la trappola mi vedrà Ma dov'è il grigio? Ah è ancora in casa sua Pozione E via Ok io adesso sono totalmente invisibile Lui sta barricando il suo letto Oh mio dio credo stia mettendo l'ossidiana Devo andare adesso Devo andare adesso Ah sto mettendo soltanto il legno Ok Non mi ha visto perché sono invisibile Adesso muori Oh mio dio stavo cercando di buttarmi giù di nuovo Non mi butterai giù di nuovo Oh mio dio quanta lagga Ok gli ho rotto il letto Perfetto Ma si dai ho lavato la spacca ragazzi Eh Non ci posso credere Cioè mi sono ucciso da solo Pensavo di riuscire a fargli un knockback migliore Va bene comunque non importa Gli abbiamo rotto il letto E questo è l'importante Devo trovare un modo di andare a casa sua Senza farmi buttare giù Certo con l'ender pearl sarebbe facilissimo Lo posso uccidere in men che non si dica Ma io non ho abbastanza smeraldi Mmm Beh fin quando lui resterà a casa ragazzi Non è un problema Dove sono gli smeraldi? Eccolo qua Ok adesso ne ho abbastanza per farmi l'ender pearl E tra non molto ne avrò abbastanza per farmi anche un'altra spada in diamante Che ci servirà sicuramente per questa battaglia Perché come vedete lui lagga tantissimo Nel frattempo Uuuuh Guarda un po' chi si è svegliato Buongiorno Vuoi venire per caso qua da me? Non penso proprio E invece si sta venendo da me Ok mi devo dare una mossa E' caduto Ma come ho fatto a cadere? Da solo non lo inseguiva nessuno Ma vabbè Contento tu contenti tutti Ok adesso ho abbastanza smeraldi per farmi Spada in diamante E ender pearl Praticamente sarò immortale Mele d'oro Poi Ender pearl Spada in diamante E questa in ferro come al solito la mettiamo qua L'ender pearl la si mette qua Sei di diamanti che ci faccio Mmm Vabbè si ci faccio l'iron forge dai C'ha una palla esplosiva come vedete Ok Quindi cercherà di buttarmi giù il ponte Ne sono abbastanza sicuro Beh lui ovviamente si vuole vendicare Che io gli ho rotto il letto Oh ok se ne sta andando Ottimo Ne posso approfittare ragazzi A meno che anche lui c'è un ender pearl Ma si me la rischio Chi se ne frega Andiamo No mi sono buggato Uuuuh Vieni qua Dai Scendi Vai giù Vai giù Fatti un giro Ecco ti sei divertito a buttarmi giù prima E adesso ti butto io Il resto lo si mette qua dentro Perché tanto non mi serve al momento Allora io spero che non sia uno di quelli adesso Che cerca di buttarmi giù a tutti i costi Per favore fammi entrare a casa tua Fammi rompere il tuo letto E basta così Dovrebbe avere la trappola comunque Dov'è Non è in casa Ma Ha abbandonato la partita E io ho vinto con la bellezza di Undici uccisioni Mica male Mica male Sono contento Mi raccomando ragazzi Lasciate tanti Mi piace se vi è piaciuto questo video in webcam Ovviamente ne posso fare degli altri Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao